In occasione della giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, ieri mattina la comunità Vennate ha ricordato i suoi caduti con una serie di iniziative pubbliche promosse dal Comune e dall'Associazione Nazionale fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro. Noi siamo un'associazione di volontari, guardiamo di aiutare un po' gli invalidi assieme all'Ineil perché noi tutto quello che facciamo ci rivolgiamo all'Ineil per fare questo e per fare quest'altro. Io a giugno ero a Roma, all'Associazione, ora dico col mio Presidente, guarda Presidente che il Comune di Ravenna ci ha concesso, che è tre anni, ci ha concesso la Sala del Consiglio Comunale, cosa che non è mai capitata in nessun Comune d'Italia che abbia concesso, la Sala del Consiglio Comunale l'abbiano concesso all'Associazione. Ha detto sì, ora ha avuto occasione di parlare con il Quirinale, hanno detto guarda che a Ravenna ha concesso la Sala del Consiglio Comunale alla successione per fare in Comune la successione con il Sindaco di Ravenna. Sono stati già stipulati dei protocolli in Prefettura per incentivare la sicurezza sul lavoro, il presidio nei cantieri, il presidio nel porto per tutelare la salute e la sicurezza sul lavoro, per cui comunque in questa provincia è un argomento molto sentito, anche perché abbiamo avuto già numerose vittime.